Well, il proiettore è qualcosa che non va! Non so per quanto ancora restere aperto il portale, devi tornare indietro subito! Non senza me! Aspetta! Che cos'è questa puzza? Sono veramente felice di vederti! Il portale si sta chiudendo, dobbiamo uscire da qui! Subito! Dove vai senza il tuo vecchio amico Kelly? Gwen, cosa sta succedendo? Gwen! Lasciala andare, altrimenti io! Altrimenti tu, cosa? Lasciala andare e potrei avere questo stupido orologio! Ben, non farlo! Allora siamo d'accordo o no, Biggans? Mia cugina è in cambio di quest'orologio! Ben! Che cos'è! Fregato! L'ho azzerato. Ora non ti sarà facile trovare il controllo principale. Trovare la combinazione di controllo è un gioco da ragazzi per un maestro dell'Omni Tricks. Ma chi ti dice che l'avrai? Ehi, Gavin, è la tua vendetta. Guarda, io sono ancora bimbo. Lasciarti bloccato qui contro il tuo nemico numero uno è già molto soddisfacente. E se potrà usare questo affare per conquistare la Terra, lo sarà ancora di più. Wayne, esci prima che sia troppo tardi. Te l'ho già detto. Gavin Leve non prende mai ordini da nessuno. L'ho preso!